Per quel che riguarda il significato sono due gli aspetti su cui è necessario porre l'attenzione. La prima è l'uso dell'infinito. La poesia è scandita da una serie di azioni tutte all'infinito. Meriggiare, ascoltare, spiare, osservare, sentire, seguitare e c'è una scelta casuale. Infatti la domanda che dobbiamo porci è questa. Cosa fa l'io lirico, il soggetto di questa poesia, o meglio il soggetto di questa poesia? È identificabile? No, perché siamo di fronte a una sequenza di azioni, trascorrere il pomeriggio estivo, ascoltare, spiare, osservare, compiute da un soggetto impersonale, come attesta appunto l'uso dei verbi all'infinito. Come si spiega la scelta di evocare le azioni compiute in un pomeriggio estivo e assolato attraverso l'infinito, che è il modo del verbo che non esprime né il soggetto né la modalità con cui avviene l'azione nel tempo. La volontà è chiara, è quella di rendere l'assoluta estraneità e marginalità dell'io rispetto alla realtà costituita dal mondo naturale. In netta contrapposizione con quanto accade invece nella pioggia nel pineto, dove l'io è assoluto protagonista, dove l'io è il regista di quanto accade, o meglio è il regista del racconto di quanto accade alla natura attraverso la pioggia, all'amata che si trasforma in vegetale e di quanto accade al poeta stesso che partecipe di un processo di fusione totale con la natura sublimato appunto attraverso la metamorfosi o vegetalizzazione. Ma c'è anche un altro aspetto interessante nell'uso dell'infinito. Ascoltare, spiare, osservare, sentire sono percezioni a cui mancano due aspetti, sono atti di percezione a cui manca l'individualità, il soggetto che percepisce, l'emotività e una dimensione temporale definibile sul piano cronologico. Chi sta trascorrendo il pomeriggio, quando esattamente, in quale precisa circostanza, l'infinito, in quanto è il modo indefinito del verbo, non indica tali aspetti, o meglio, gli esprime in una forma implicita che si può ricavare dal contesto generale. Quindi qual è l'effetto, la conseguenza di tale scelta espressiva? Non è soltanto, come vedremo meglio, rendere l'idea della totale estraneità dell'io al mondo, l'io non c'è, ma anche conferire alla condizione del poeta un valore universale. La sua è una condizione generale, che vale per tutti, non è solo individuale, di cui la scelta dell'infinito. L'altro aspetto chiave, l'altra immagine chiave, che non a caso si colloca all'inizio e alla fine, è quella del muro. Nella prima quartina il muro cinge un orto e separa il poeta dalla natura. Il muro, quindi, è il simbolo di una separazione, qualcosa che ostacola, un elemento che impedisce la visione completa di un paesaggio, per esempio quello marino, nel caso del verso 9. Il muro, quindi, si frappone, è un ostacolo che si frappone tra la natura e il poeta, impedendo quella compenetrazione totale che avviene invece nella pioggia nel pineto. Il muro, poi, l'immagine del muro ritorna nell'ultima parte. Ma con quale differenza? La prima differenza, l'immagine del muro ricorre nell'ultima parte in un contesto meditativo e non è un muro, è una muraglia. Una muraglia è una struttura decisamente più impolente, che rimanda all'idea della barriera che definisce un confine, un limite, o meglio, di una prigione che delimita uno spazio all'interno del quale si è chiusi. Quindi la muraglia è il simbolo di una condizione di oppressione, di mancanza di libertà, di impossibilità di varcare un confine per raggiungere l'infinito, quello che si vede oltre il muro, che è invece una dimensione di autentica vitalità, di pienezza, di totale fusione con la natura e di libera espressione di sé.